stadio miramare lo stadio di tante battaglie la fossa dei leoni e domenica ci aspetta davvero una grande battaglia contro lo united slide alle ore 17 30 qui allo stadio miramale dovremo necessariamente riempire gli spalti e sostenere a gran voce i colori della nostra città della nostra squadra il manfredonia calcio 1932 domenica ore 17 30 stadio miramale e aspettiamo numerosi tutti insieme unico obiettivo non mancate